La salute non è il gusto, ma il diritto è il discorso. La salute non si vende, la salute si difende. Se vogliamo dignità investiamo in sanità. Il nostro è un grido perentorio, più risorse al territorio. Sono alcuni degli slogan scanditi dal corteo che ha animato la manifestazione regionale per la sanità pubblica. Io credo che sia giusto salvaguardare la sanità pubblica, gli ospedali pubblici, perché è un bene fondamentale. Come ha detto anche il Presidente della Repubblica, dobbiamo sicuramente portare avanti la sanità pubblica. Noi abitiamo a Roccapietola, è un problema solamente con la viabilità per la sanità. Veniamo dal Comelico, è una zona molto sacrificata. Prendiamo l'ospedale di Feltre, ad esempio la psichiatria è stata chiusa, la lungodegenza, quindi abbiamo bisogno che la sanità sia pubblica e non privata. Ci sono posti in montagna che non sono serviti da nessun ospedale, c'è gente che deve fare due ore per venire a fare una visita e se sta male veramente rischia di morire perché non ha un ospedale a portata di mano. Noi siamo del Comelico e per andare, levarci un'unghia, deve andare fino a Belluno, a Treviso ed inverno, con le strade che ci sono, per noi è impossibile continuare così. Per esempio l'ospedale Magalini di Villa Franca, che era diventato Covid nel 2020, comincia ad avere un'emorragia di medici che se ne stanno andando perché vanno altrove e quindi cominciano a chiudersi alcuni reparti. Mia madre ha avuto bisogno e ha avuto grossi problemi con la sanità. In corteo tra le 3 e le 5 mila persone un fiume umano con gente ancora ferma in stazione quando la testa del corteo era ormai in Piazza Duomo. Sindaci con la fascia, associazioni, sindacati, partiti, singole persone, perfino ex medici di base. Io ho fatto il medico per 40 anni, medico di famiglia, quindi conosco i problemi a fondo. Io sono medico, sono pensionato e quindi so com'è la situazione. L'interesse è comune, anteposto alle esigenze personali, con però un tema ricorrente, quelle liste d'attesa che troppo spesso spingono, almeno chi se lo può permettere, verso il privato. Faccio volontariato per l'Auser, ma sapete quante persone porto in ospedale, cioè in ambulatori privati e che si lamentano perché non riescono, perché hanno quel grosso problema e a prenotare ci vogliono sei mesi? Mi è capitato di dover aspettare una visita sette mesi e mezzo. Per testimoniare il nostro disagio di fronte a servizi che non funzionano, a servizi che rinviano le visite giorno per giorno. Ho qualche difficoltà perché sono in lista d'attesa da troppo. Il mio medico mi ha anche detto guarda che hai fatto le analisi l'anno scorso, se le vuoi te le faccio pagare e quindi non mi pare una cosa giusta insomma. Mi hanno lasciato in lista d'attesa per mesi e mesi. Nel fare una visita medica, una visita specialistica, magari sei costretto a, se vuoi farla, farla privatamente.